Luigi Pirandello, Pallottoline, in Istituto di Studi Pirandelliani. Già, l'autunno si ridestava con certi spuffi che scotevano là, sulla cima, la grave e stanca immobilità dei grandi alberi esausti e, quando quegli spuffi non avevano alcun impeto contro le povere foglie moribonde, erano fitti ribocchi di nebbia che esercevano onde impigliandosi pigri tra i rami attediati, in basso stagnando sui laghi o fumigando qua e là dei boschi sottoposti che pareva artessero a lento, senza fiamma, senza crepito. Sembrava, certi giorni, che tutta l'aria si fossero attensata in un fumo bianchiccio, umido, accecante, e allora la vetta del monte restava come esiliata dal mondo.